Al via la 37esima edizione della mostra dell'artigianato agricoltura e commercio di Soragna in provincia di Parma un evento anche quest'anno eccezionale con tantissimi espositori e tantissime novità andiamo insieme a scoprirle in compagnia del Presidente Uno dei più grossi eventi che c'è a Soragna all'inizio della primavera chiamata questa mostra dell'artigianato, produzione e commercio come dicevi prima 37esima edizione, qualcosa abbiamo fatto in questi anni Un territorio ricco anche di storia, qui vicino ci sono località importanti che hanno dato i Natali per esempio a Verdi in questo modo Soragna diventa un centro anche culturale, non solo fieristico Sì, siamo a 4 km dalla casa natale di Giuseppe Verdi siamo poco lontani dal Po, con le ciclabili del Po, con tutto quello che è il percorso del Po abbiamo una bellissima rocca anche nostra con ancora un principe vivente principe Dio Febo Melilupi di Soragna Tre giorni dedicati all'enogastronomia, alle nuove tecnologie in campo zootecnico ma anche stand di fiori e prodotti tipici del territorio La fiera di Soragna, giunta alla sua 37esima edizione quest'anno propone una novità all'insegna della tradizione emiliana una gara per decretare la migliore pasta fatta in casa madrina per l'occasione Alessandra Spisni Volevamo ricordare un po' come le massaie, le resdore le chiamavano quindi a letto da noi tiravano la pasta con l'antichissimo mattarello e come in quelle serate di nebbia è uscita questa iniziativa dove abbiamo messo a disposizione delle signore un tot quantitativo di farina, uova e tirare la sfoglia al mattarello come si faceva anticamente non più con le macchinine, macchinette, impastatrici abbiamo dato la possibilità anche ai bambini Un modo per avvicinare anche i più piccoli a una grande tradizione emiliana? Sì, una vecchia tradizione emiliana infatti c'è anche esposti degli vecchi torchi da pasta dove veniva trafilata questa pasta in casa usava molto fare la pasta penso che le massaie le facciano ancora con sistemi non proprio con il mattarello, con il tagliere in legno ma la fanno ancora ci abbiamo creduto e ha avuto un buon successo Qualche anticipazione sul prossimo anno, Presidente? C'è qualche curiosità? Sicuramente si rifarà l'edizione perché lasciar morire una manifestazione come questa sarebbe un peccato Appuntamento quindi all'anno prossimo